Bersani non è un big come tanti, non è uno che diciamo possiamo catalogare, Bersani, cioè ragazzi sono 30 anni che sta sul pezzo e ha fatto tantissime hit, tutte diverse, ed è riuscito sia ad arrivare spesso al grande pubblico appunto, mi riallaccio al discorso che stavo facendo su Aereo, la rappresentante di lista, ma Bersani ecco ci è arrivato sempre con una penna di una sottilezza proprio, Ecco l'ultimo disco di Bersani è proprio una roba che se te lo devi ascoltare devi un attimo fare i conti con quello che stai vivendo, perché sono quelle cose che ti possono annegare ancora di più se stai già andando a fondo, Perché come racconta lui quell'ebbrezza, quel dolore un po' che vive l'innamorato, sia quando la storia va bene che quando la storia va male, C'è quel brivido, quel senso che a un certo punto ti anche stanca, ecco lui lo ha fatto nelle sue canzoni in maniera veramente straziante ma dolce, E' come Spaccacuore no? Spaccacuore è una canzone che tu te la canti come se fosse acqua no? Fosse leggera, ma non è leggera, non è una canzone adolescenziale, E' pesante Spaccacuore, cioè ma non pensarci più ti ho detto di mirare, capito? L'amore spacca il cuore, cioè te lo dice proprio in un modo, Fosse una cazzata, fosse una canzonetta, fosse un concetto basilare del cazzo, pure pure, però c'è talmente vero che Porco 2, cioè te te la pone in questa forma, E' qui la sua grandezza, che lui fa canzoni meravigliose, che all'apparenza sono leggere, perché suonano proprio da paura, Proprio, sono dolci, sono dolci, ecco, è come il caffè lui te lo addolcisce, no? Però sempre amaro è il caffè, perché amaro è la vita, E trovarlo ecco con Gian Maria, che appunto come ha detto Manuel Agnelli, si è no, è un big, e dall'altra parte hai Gian Maria che ci prova, Fa il suo, ed è stato bravo, è stato al suo posto, ha fatto il suo compito, è stato bravo Gian Maria in questa edizione di X Factor, Un altro dei pochi che me l'ha fatto apprezzare, amare, è stato sempre umile, è stato sempre se stesso, Ci ha messo sempre tutto se stesso, non si è mai montato la testa, nonostante ci ha ricevuto veramente complimenti da chiunque, Vasco, Bersani stesso gli ha detto, cioè, quando sei venuto X Factor e hai fatto la prima canzone, ho provato un'invidia positiva, avrei voluto scriverla io, Anche lui come Erio è uno che appunto ha portato una roba talmente forte in principio, che poi, insomma, è difficile da rieguagliare, E quindi di conseguenza questo, diciamo, è anche un po' un crucio, no, che ti porti appresso, il confronto con te stesso, Con un te stesso che aveva raggiunto un picco di spontaneità difficile poi da riraggiungere, Però Gian Maria c'è da dire che con la sua condotta, col suo impegno, con la sua professionalità, Anche quando magari ha avuto delle sbavature, perché un ragazzo ha sempre tenuto botta, E secondo me cantare Spaccacuori con Bersani non è solo un onore, è anche una grande prova di maturità, E il modo in cui l'affrontata dimostra che Gian Maria è pronto al mondo fuori.